Giorgio Bongiovanni Ovviamente nell'esperienza di Giorgio Bongiovanni, contattista e stigmatizzato, la presenza degli angeli è una costante sotto vari punti e sotto vari aspetti. E chi è Giorgio? Non so se tutti voi ne abbiate sentito parlare. Comunque nel 1989 questo giovane uomo di 26 anni incomincia ad avere delle apparizioni nelle Marche. Io già lo conoscevo all'epoca perché tutte e due eravamo discepoli, diciamo così, seguaci, studiosi, mettetela voi come volete, di un contattista italiano che è stato tra i più importanti contattisti a livello mondiale, che è Eugenio Siragusa. Quindi ci conoscevamo già con Giorgio, avevamo stretto una discreta amicizia e collaborazione già all'epoca, quindi stiamo parlando della parte finale degli anni Ottanta, fino a che lui appunto comincia a vivere questa straordinaria esperienza di veggenza. Quindi da studioso del fenomeno ufologico, così come ero io, diventa un veggente e l'apparizione nelle Marche si presenta a lui come la madre di Cristo, Maria Miriam, col nome ebraico si presenta, e lo invita a recarsi a Fatima, nella grande piazza dove lei diede ai tre pastorelli le apparizioni e le profezie nel 1917. Giorgio si reca a Fatima, dopo ovviamente aver avvisato il nostro padre spirituale, che era appunto questo personaggio catanese, questo contattista, e va a Fatima accompagnato da due amici, una coppia di spagnoli, che sono poi gli autori di queste foto. A mezzogiorno Giorgio va in estasi, la Madonna gli appare e gli comunica un messaggio e gli dà una missione, gli dà un compito da svolgere nella società. Poi gli chiede, Giorgio vuoi tu portare nel tuo corpo un poco della sofferenza di mio figlio il Cristo? e Giorgio le risponde, sì, madre, lo voglio. Al che dal petto della Vergine scaturiscono due raggi di luce che lo colpiscono sul palmo delle mani. Vedete, si nota leggermente già la macchia di sangue, qui si nota ancora meglio, quindi Giorgio era in estasi, stramazza all'indietro, il dolore è subito molto forte e il sangue incomincia a fuoriuscire dalle mani. Quindi Giorgio viene stimmatizzato. Poi in quel giorno, 2 settembre del 1989, solo nelle mani, ma poi nell'arco di alcuni anni le riceverà anche nei piedi, al costato e anche sulla fronte, un segno che porterà visibile e permanente per molti anni. Dopodiché, quando lui inizia la terza parte della sua missione, che è un lavoro all'interno della lotta alla criminalità organizzata, quindi contro le mafie, questo segno così, diciamo, eclatante sulla fronte, lui chiede alla Madonna che diventi invisibile. La Madonna gli dice, vieni a Meggiugori, quindi Giorgio si recca a Meggiugori, lì ha un'apparizione e la Madonna gli rende invisibile il segno. Ma il dolore rimane permanente, quindi la stimmat è presente ma non si vede. Però la Vergine gli dice, in occasione di momenti particolari della storia dell'umanità, questa stimmat ridiventerà visibile. Questo è accaduto varie volte. L'ultima volta è accaduta l'anno scorso, siamo stati insieme a Fatima perché la Vergine lo ha chiamato di nuovo lì, e il 3 settembre, durante un'apparizione, Giorgio, la stimmat diventa di nuovo visibile. Rimarrà visibile per circa otto giorni e poi dalla sera alla mattina, così con la stessa istantaneità con cui questo segno era comparso, scompare di nuovo e da allora non si è rimanifestato. Se vogliamo dare una lettura, che è quella che diede la Santa Vergine a Giorgio, che disse, questo segno apparirà ai momenti gravi dell'umanità. Dopo pochi mesi, la Russia ha mandato i suoi militari in Siria e si è creata quella gravissima e pericolosissima situazione che stiamo vivendo adesso, dove di nuovo gli eserciti delle maggiori potenze mondiali, quindi la Russia, l'America, la Cina, si stanno fronteggiando direttamente. Quindi Giorgio riceve un segno, ma riceve anche una missione. Questa missione si divideva, o si divide, divideva perché è quasi al termine, in tre parti distinte. La prima parte era quella, ricordo siamo nel 1989, quindi ancora lontani dal giugno del 2000, quando la Chiesa rivelerà una parte del terzo segreto di Fatima, perché non l'ha ancora rivelata tutta. Manca la parte più importante, perché la Chiesa ha rivelato la visione dei tre pastorelli, ma manca la spiegazione che la Vergine ha dato di questa profezia, di questa visione ai tre pastorelli, che ovviamente trattandosi di una visione simbolica, teologica, non poteva essere compresa da dei bambini ignoranti, tali erano i tre pastorelli, per cui la Vergine spiega cosa significa in termini storici, sociali e spirituali quella visione, ma questa spiegazione della Madonna la Chiesa la tiene tutt'oggi segreta. Perché? Perché si parla di gravissime catastrofi, si parla di una guerra mondiale combattuta con armi nucleari, ma soprattutto, che è la parte che la Chiesa teme di più, si parla di una gravissima crisi all'interno della Chiesa cattolica, dove ci sarà probabilmente uno scisma, perché le parole con cui la Vergine si riferisce a questo, dice che cardinali si opporranno a cardinali, vescovi a vescovi, e Satana marcerà in mezzo alle loro file. Ricordo le parole negli anni 70 di Paolo VI, che disse il fumo di Satana è entrato da qualche fessura nel Tempio di Dio. Quindi, se già Paolo VI diceva che il fumo di Satana, beh, oggi, insomma, sto fumo è diventato un incendio, perché tra il riciclaggio di denaro nella banca dello IOR, traffici di vario genere e tipo, corruzioni, scandali, lobby di preti gay, eccetera, eccetera, ce n'è di tutto di più. Quindi, il segreto di Fatima parla di cose gravissime, e Giorgio riceve le stimmate a Fatima. forse è la profezia più importante che riguarda il futuro dell'umanità. Ora, esiste una versione di questo testo che viene conosciuta col nome di versione diplomatica. Perché si conosce questo testo? Perché durante la crisi di Cuba, nel 1963, la segreteria del Vaticano decise, inviò questo testo riadattato dalla versione originale a una funzione diplomatica, lo inviò alle tre maggiori potenze dell'epoca, che erano Unione Sovietica, Inghilterra e Stati Uniti. Per cui, attraverso un'indiscrezione diplomatica, si pensa da parte sovietica, che erano atei comunisti, quindi la cosa loro, credo, li lasciasse relativamente indifferenti, questo testo finì nelle mani di un direttore di un giornale tedesco che si chiamava Nois Europa e fu pubblicato. Quindi, nell'apparizione che Giorgio ha a Fatima, questo è il dipinto che illustra esattamente come Giorgio ha visto la Madonna, anche col volto. Una veste bianca, un cinturino azzurro alla vita, una rosa rossa sul petto e le due mani quasi giunte, ma con un grande alone di luce. che le avvolgeva, sospesa all'altezza dei rami della quercia che si trova nella piazza di Fatima. Quindi, questa versione diplomatica, la Madonna dice a Giorgio che è attinente al messaggio che ha lei, cioè dice il contenuto, per quanto sotto forma più adatta per quel tipo di uso. E gli dice alla Vergine, però manca una parte, che è un segreto nel segreto, una piccola frase che dice e in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Quindi la Vergine dice a Giorgio e gli spiega che la visita extraterrestre fa parte di quei segni escatologici che indicano che siamo nel tempo del ritorno di suo figlio, della seconda venuta di Cristo. Quindi Giorgio svolge per alcuni anni questo. Io ho partecipato già all'epoca in maniera abbastanza consistente a questa attività. Quindi Giorgio diffonde sin dalla fine dell'89 questo testo in tutte le forme possibili attraverso programmi radiofonici, televisivi, volantinaggio, eccetera, eccetera. Conferenze. La seconda parte, spiegare appunto che la visita extraterrestre è messianica e che questi esseri che oggi noi chiamiamo extraterrestri altri non sono e qui entriamo nell'argomento della conferenza che gli angeli. Oggi li chiamiamo extraterrestri ma in realtà sono gli stessi esseri che duemila anni fa o addirittura nel Vecchio Testamento hanno coadiuvato la missione sia dei profeti che dello stesso nostro Signore. E indicare appunto che siamo nel tempo della seconda venuta di Cristo. Queste due parti Giorgio le ha già terminate. Quando iniziò questa parte qui io lo accompagnai perché Giorgio entrò in tutti gli ambiti ufologici internazionali proprio per spiegare ai ricercatori razionali tra virgolette scientifici ufologi che questi esseri erano esseri multidimensionali. Poi spiegheremo bene che cosa significa. Cioè esseri che possono manifestarsi sia come corpo e sia come spirito dipende da quello che devono fare perché hanno il totale controllo della materia che li compone. Cioè possono o materializzarla e quindi comparire in forma umana oppure smaterializzarla come spesso accade e quindi entrare nelle cosiddette apparizioni dei veggenti. e terza parte invece che è quella che Giorgio sta portando a termine ora anche perché dall'89 oggi sono passati parecchi anni e quindi questa missione è già più di due decenni che va avanti. Allora eravamo ragazzini oggi siamo uomini abbastanza cresciuti. La terza parte e questo è il motivo per cui la Vergine indica a Giorgio di entrare nell'antimafia perché spiega la Vergine che la mafia siciliana e le altre mafie sono il braccio armato dell'anticristo. All'epoca e sino dall'epoca di Eugenio Siragusa l'anticristo era indicato non tanto in una persona ma era indicato in tutte quelle istituzioni e tutti quei personaggi che schiacciano la società che distruggono l'ecosistema e ci sfruttano. La Vergine spiega a Giorgio che queste mafie sono il braccio armato dell'anticristo quello più spietato quello che l'anticristo usa per fare i lavori più sporchi diciamo così. E quindi è la Vergine che dice a Giorgio devi fare questa lotta qui quindi Giorgio diventa dopo il 2000 diventa giornalista e diventa direttore di un giornale che oggi è il più autorevole in ambito di legalità e di lotta la mafia che si chiama Antimafia 2000 e reiterare l'annuncio che siamo nell'imminenza della seconda venuta di nostro signore. di un'imminenza di un'imminenza